unità 2.12 unità 2.12 12 papà si è raggiunto da lucas qui è che si veste su due due bandersuolo atleti scusami scusami Asch è su Pino io sono Pino te brodo persteis chi ha giocato i voti Asch è su Pino io sono Pino io sono Pino o tu? io sono Pino io sono Pino come ti chiami l'abbas ciao ciao ma non voglia Maria ma ne va di nuovo Maria io mi chiamo Maria io mi chiamo Maria io e vabbè io mi chiamo Maria ma non no? piacere ma non non ma non ma non ci faccio piacere ma no io mio Piacere mio, io matem, mano, mio, ottavo, tuo, io, io, suo, io matem, isch, tur, essi, Maria, di dove sei Maria? Sì, sei, 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 Io sono italiano, io sono italiano, di Milano, di Milano, ho scelto questo, Iran, è Gianni. Gianni, e questo è Gianni, te partis ira italiana, anche lui è italiano, due italiani li ho trovato, due italiani li ho trovato, in l'Italia, vediamo in, o ne ha? Due italiani li ho trovato, lo beggerei? Molto bene! Vai qui innaì? Ragà? Sì, vai qui innaì? Ragà? Sì, viene a casa? Un caffè, mia lei? Volentieri. E innaì? Andiamo! Andiamo! No! Teppi, dov'è qui esim Savonorus? Sì, c'è l'idea l'idea. Sì, vabbè, dov'è? Sì, vabbè! Ho! Vabbè! Vabbè! Grazie a tutti.